Iacobelli, nessun giocatore della Juventus è incedibile. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Xavier Iacobelli, giornalista, ha raccontato a TMV Radio del mercato bianconero, nessun giocatore della Juventus è imperdibile, questa è la condizione iniziale per il club bianconero che attende grandi offerte dall'Arabia per valutare la situazione con Pogba. Il fatto è che questa è la stagione più importante per lui, sia che rimanga alla Juventus sarebbe un anno dentro o fuori dopo l'ultima stagione, dove non è riuscito a essere il protagonista. Dovrebbe dare delle risposte. Dovrebbe dare delle risposte. Dovrebbe dare delle risposte. Grazie a tutti.